ma no 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 sti cazzi che ruoli vai vai starta starta e gli dico veloce cazzo che stress psicologico bianca 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 e gialla bianca 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 no sotto il 7 no ragazza televisione ma non tolcazzate cercate di poter il gioco ormai stupo 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 no il campo di patate un po di patate ma un particolo d'ora che c'è questo è il quale amico il compresso è chiaro chi cazzo fanno chi è il razzegante no cazzo non sta gaggato in mezzo che cazzo fanno che cazzo fanno no non andare via muovere sto lagando quello ah ma perchè? non mi è passata sta palla? orca buttana buona allora buttano a buttano buttano a buttano ma le buttano sono veramente handicappate si botta è handicappato no ragazzi se la bisogna azzolino ci ha provato mi ha sdraiato tu ha bella così bravo Iuri ragazzi ma ce la fate a buttare senti ma ce la fate a buttare ed ecco dunque stavo dicendo che non c'è più la tv no mamma mia ragazzi non si arregge non si arregge ma è bello che si è mutato e ha mutato anche noi mandatemi un messaggio su whatsapp si no davvero diciamo di mutare proprio il microfono a sto punto smutati no deve proprio togliere il microfono proprio deve questa televisione non se ne può più bascus comunque sentiamo con la televisione devi completamente disconnettere il microfono cazzo porco si vede che è del Napoli dei pandemps dai dai buona buona no zio porco tirassimo nooo un pallonetto eh lì ci vuole il pallonetto eh c'è il tiro di peppa no no ma che pallonetto ah un bel tiro il filtrante là un bel tiro incrociato là incrocia cazzo ma il filtrante epico nooo è fuori gioco è quello che l'ho mandato a schifio madonna ma se gliela prendo ecco la eccoci bella chiellini porca miseria tirane sembravo che succede che cazzo ne so stavano le tigande per la palla quelli occhio 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 grande è il numero uno ma che cazzo abbiamo la difesa a sette occhio grande traina non basta nessuno via non più non più cazzo di che hai una palla che sei alto un metro e venti eh però non mi pensavo che quello andasse dietro grande bascus se ma lo coglione è il nostro nostro solo ma non sembra proprio vero ma no da un colmuto per corruzione no no povero paolo il zingaro vai 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 cazzo ma cazzo tira cazzo ma troia eh ho tirato alla presa del totale interna proprio autistico quel minaccio io ho sentito una bestemmia televisione si esatto esatto sarà il papa non celebrazione stagliando il filo no non si può sentire sto casino non si può sentire sto casino scrivetegli su whatsapp io ho detto un vero... tu cadi ma quello ci mandiamo i messaggini all'esterni mattino no scrivete su whatsapp ragazzi non si reagisce più io sento un casino un cuffia la vada a matti oh stupore pezzo di merda guarda che cambio gioco che ti faccio metà con la presa incredibile buono buono comunque ragazzi è una cosa assurda è una cosa assurda sapere che il portiere non può avere ammunizione davvero? non si può avere infatti l'altra volta mi sono messo un nuovo portiere e ho fatto mille falli non neanche una munizione bello così sì però bisogna sapere fare anche il portiere attaccando è un problema senti ma... sti scemi che stanno combinando cazzo devi fare ma porti fuori come minimo scendi oh mezz'ora mi sa sta cosa bocca misera che gli ritardati tutta sta roba per un po' di gioco gg chi è sto facendo? chi è? no no diego diego no diego occhio no diego no diego appena finisce sta partita lo devo cazzo gli devo togliere l'audio lo devi mutare? eh sì non ci si fa a sta televisione raga no ma si sente pure il suo pad sentite? eh secondo me lui è scollegato solo le cuffie sì sì esatto esatto è scollegato le cuffie e sente tutto guardami guardami stai no no eh si risultano è quella bella Iurie dai di la verità non mi senti ti ho lasciato bene sai che ti voglio bene art cc ma cazzo si chiama sa che ti voglio, quanti sono ma sono tutti ma quanti sono precedenti 5 e ci hanno il quale esso sempre si supporto proietta Buono! Let's go! Ogni tanto si sente Diego, dai cazzo! Oh, chi è? Bascus, è Bascus! È tornato Bascus! Ma io l'ho sentito... Ah no, ha parlato perché noi non lo sentiamo però... Cioè, lui che non ci sente però gli può parlare, ragazzi, se lui parla noi lo sentiamo, capito, ragazzi? Il problema è che non ha tolto le cuffie, capite? Quello è il problema. Cioè, scusa, non ha tolto il microfono. Eh, mano, non ci sente, io ho mandato il messaggio. Ma cazzo, te l'ho messo! Nooo! Caccia sui messaggi di merda! Puscia, puscia, puscia! Pressing! Eh, è full! Non so, ma l'abbiamo ancora usato in questo time. Buono! Vai, scatta! Scatti! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Segui, pide l'avanzata! Musso, un musso ti faccio scattare, comunque... Un po' leggiato, non ti ho messo di taglio, questo. Nooo! Cazzo! Occhio, 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 occhio! Peccato! 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 Merda, merda, merda! Tieni quello, tieni quello, quel... questo pezzo di merda! Grande trainer! Grande trainer! Tienilo, tienilo, tienilo! Che puttana, mi sto confondendo! Non lo fate confondere! Buono! Al giallo? Merda la presa! Cazzo! E io sto dietro, io sto dietro, pensavo a Dio! Uuuuh! A momenti, eh! No, poteva essere questo primo gol di testa! Davvero, eh? Che cazzo! Merda! Occhio, occhio, occhio! Best thing, best thing! Va bene, no, ha fatto bene, secondo me. Insomma, ha fermato una bella azione, magari. Sì, 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 sì! Bravissimo, Diego! Diuf! Ringrazio! Bopa Diuf! L'operativo femminile devo dire che non è neanche così male! Capisce tutto il dipensore, ottimo intervento! No! Se passava! Il culo di merda! Godo! Pezzi di merda! Spacca tutto, spacca tutto! No! Cazzo! Mamma mia! Occhio! Terribile! Va bene, va bene, hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene! Marchiamo tutti quelli che sono là! Mi sentivo come se dovresti perdere la palestra! Grazie! Nooo! Non so perché, ma non è scattante! Oh, peccato! Carissimo! Grande, basco se è un mito! Bella! Grande, mamma mia! Quei cazzo sulla porta! Yuri! Yuri? Possono scontare la ripartenza! Nooo! 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 Eravamo in due! Si so qui! Nooo! Non puoi farmi questo! Eravamo in due nel mezzo! Guarda lì! Guarda lì! Che gioco ragazzi! Nooo! Ho provisto! Non mi direi come ho fatto lì eh! C'è un errore per la tua palla! Di cuore! Ecco come hai fatto! Ci hai creduto! Fino alla fine! E' sì! Come sempre! Come sempre! Alla fine della Champions! No! Zitti! Zitti! Vediamo tempo! Vediamo tempo! Fino al settantesimo può stare qua la palla! Madonna! Questa televisione! No! Adesso gli tolgo l'audio! Basta! Per è finita questa partita gli tolgo l'audio! Mi sono rotto il cazzo! Oh! No! Uh! Tiri! Tiri! Bella così! Bella così! Bella così! Oh! Oh! Me l'ha tirato giù! Me l'ha fortunato! Oh! Me l'ha fortunato sto stronzo! Vabbè non la paga eh! Non la paga? Eh sì sì sì! no è buona no 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 cazzo porca troia non ci posso arredere me l'hai fortunato ha finalizzato la perfezione infortunato che te sta di me davvero l'uomo l'uomo con l'altra per troppo la parte rotta no porca miseria posto la rimessa con le mani vaffanculo non è che sfiga ma è sempre fortunato ma è fortunato bravissimo ma che sfiga un tiro questi avranno fatto in porta oh mi raccomando al qual limita nell'aria occhio al cross in mezzo il suo borco 79 esi non dirò volco per lo scontropiato beh si mamma mia ci ha salvato bravissimo bravissimo oh cazzo già la quando si tuffava dai piedi dovevi prenderlo non ci palla non ci palla mamma mia ora ti vengo in culo in certezza buona al bot viaggio 8 bella beccato che cazzo che cazzo è sta cosa no 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 stanco guarda i diametri buona ma che cazzo è pesa lui tre cristiani dentro no difesa 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 scattia 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 ai 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 a no 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 son pressati brutta cosa brutta cosa son pressati son pressati bravo qui il difensore ha sventato una potenziale Provaci, provaci, provaci. Provaci. Buona. No, l'ho recuperato un po'. Eh, mi ha ripreso. Su che caccia hai come se con me? No, non c'avevo più un cazzo, cara. Non c'avevo più un cazzo. Non c'avevo più un cazzo. Caronna di Dio, bastardo. Io esco un attimo e devo silenziare quell'altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.